Cari amici, benvenuti in questo nuovo video. In questo video volevo parlarvi della Zorki 11, che è una fotocamera praticamente sconosciuta, che pochissimi conoscono, ma che è abbastanza importante dal punto di vista storico, perché è stata una delle prime fotocamere automatiche dell'Unione Sovietica. Ebbene sì, questa è una macchina fotografica automatica che è stata prodotta dalla KMZ dal 1964 fino al 1967. Che dire, come tipo di macchina fotografica noi oggi la chiameremmo compattona, perché non ha gli obiettivi intercambiabili, ha un mirino galileano per l'inquadratura, per la composizione dell'immagine, quindi abbiamo una semplice finestrella. E che dire, però insomma è costruita in metallo, pesa 750 grammi, è abbastanza anche robusta. Io direi di andare più da vicino a scoprire come funziona questa sconosciutissima e particolare macchina fotografica. Iniziamo subito. Ed eccola qui. Guardate un po' che particolare che è questa macchina fotografica. Devo dire che mi piace molto la scritta che abbiamo qui davanti, Zorki 11. Guardate che particolare che è. E abbiamo sopra che è molto molto pulita, abbiamo solo la slitta portoggetti. Non è qui che si trova l'attacco per il flash, il contatto per il flash, ma si trova qua davanti, questo buchetto qui. Quindi sopra molto pulita, dietro guardate è pulitissima, completamente liscia. Abbiamo solo questo forellino qua per fare l'inquadratura dell'immagine, con correzione del parallasse, quindi troveremo delle tacchette che ci indicheranno l'errore di parallasse. Il fronte l'abbiamo visto con la finestrella. La finestrella che è molto più largo il pezzo di plastica qui davanti rispetto al buco da cui si vede, perché la Zorki 11, a differenza della Zorki 10, non presenta il telemetro. Infatti la Zorki 10 qui ha un altro buco, dentro questo vetro, che fa da telemetro, quindi per la messa a fuoco di precisione. Probabilmente per abbattere i costi, qui sulla 11 non è stato inserito il telemetro. E poi sotto troviamo un sacco di funzioni. È strana questa macchina, perché di solito queste cose le troviamo sopra, quindi il contapose, la leva di carica, le troviamo tutte sopra, la manetta di riavvolgimento, troviamo tutto sopra. Invece qui no, qui lo troviamo sotto. E io vi devo dire, molti dicono che è scomodo, ma personalmente, guardate, caricare con la mano sinistra, usando il medio, lo trovo anche parecchio comodo, quindi non capisco perché la gente debba dire che sia scomodo. Semplicemente magari non siamo abituati, però secondo me è comodissimo. Poi per avere una bella estetica così, direi che ci sta. E qui troviamo subito davanti ai nostri occhi il più grande difetto di questa macchina fotografica, ovvero la cellula al selenio. Questa è una macchina fotografica automatica, come vi ho detto, una delle prime macchine sovietiche automatiche. E questa cellula al selenio purtroppo ha il difetto che col tempo si scarica. È vero che all'inizio è un pregio, perché non ha bisogno di batterie per funzionare, ma poi a lungo andare, scaricandosi, i tempi diventano inaffidabili. Tempi che sono gestiti dalla macchina fotografica, che vanno da un trentesimo a un duecentocinquantesimo di secondo. Quindi abbiamo anche una gamma di tempi abbastanza limitata. Perfetto, questa è un po' ispirata alla Ricoh Auto 35, ecco per dire, quindi non è proprio originalissimo il progetto. Molto bene. Poi, come funziona la macchina fotografica? Qui di lato troviamo, vi avvicino un po' a parte, questo pirulino per, penso, smontare la macchina fotografica. Troviamo la scritta Made in Unione Sovietica, col logo della fabbrica. In più, vediamo anche che è del 66, dato dal numero di serie. Troviamo questo, scusate, dove c'è? Eccola qua. Troviamo questa levetta qui, che con l'unghia si sgancia, e ci fa vedere il dorso della fotocamera. Qui si inserisce la pellicola, il ribogitore. Qui rivediamo il buco del mirino. Realmente è un dorso molto semplice. Qui c'è il piccolo pressa pellicole. Quindi è caricata la pellicola, si fanno i tre scatti, si carica, come abbiamo visto prima con la levetta qua sotto, e questo è il tasto di scatto. Molto, molto semplice, il tasto di scatto. Questa macchina ha anche una posa B. La faccio vedere. Magari abbassa un po' l'esposizione, perché è un po' troppo alta. Quindi abbassando questa leva, scusate, mettendola su B, io carico, vedete, si apre l'otturatore. Ora magari non si vede bene, perché avevo il diaphragm chiuso, provo ad aprirlo, rimetto la posa B. Ecco, e questo è l'obiettivo. Guardate che bello che è. Questo è un Industar 63, magari mi avvicino un po', è un Industar 63, è un 45 mm f2.8. E devo dire che le lenti sovietiche sono comunque conosciute per la loro grande nitidezza, e per lo sfocato, insomma, abbastanza soft. Quindi non è male, insomma, come obiettivo. Poi, cosa troviamo? Sempre, praticamente tutta la meccanica si trova sul corpo dell'obiettivo, quindi abbiamo il tasto di scatto, la levetta per la posa B, che per toglierla basta metterla qui davanti, troviamo l'autoscatto, che si posiziona, scusate, sulla V rossa, ora la mia è rotta, però vedete, si mette su in alto, quindi io carico, scatto, in questo caso a me rimane, giustamente, così bloccato il tasto di scatto, non finisce di scattare, perché il mio autoscatto è rotto, però di norma comunque, questo si abbassa, vedete, e la macchina scatta. Abbiamo visto la piccola X sotto, vediamo se riesco a farvela rivedere, vedete, quella è l'impostazione per il sincro flash, dopodiché, cosa troviamo? Troviamo questa ghiera qui, che è la ghiera, è la ghiera dei diaframmi, diaframmi che vanno da 2.8 fino al 22, in più troviamo la posizione A, quindi per far scegliere in automatico la macchina fotografica, il diaframma, ma già che ci sono, ve li faccio anche vedere, insomma, questi diaframmi, quindi metto con la posa B, tengo aperto l'otturatore, ecco qua, vedete, questo è il diaframma della macchina, perfetto, poi, sotto, cosa c'è ancora? Sotto troviamo la scritta DIN, quindi possiamo sia mettere la sensibilità in DIN, sia guardando sopra in ASA, vedete, sensibilità che vanno da 320, giusto? scusate, che vanno da 20, ecco qua, la sensibilità minima, fino a, gira, 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 fino a 320, quindi da 20 fino a 320, e si girano con questa ghiera, benissimo, ok, quindi scatto l'abbiamo visto, manca ancora una cosa, la messa a fuoco, ovviamente non avendo il telemetro, la messa a fuoco avviene a stima, quindi questa è la ghiera, per mettere a fuoco, abbiamo questo, questa sporgenza qui, per aiutarci nella messa a fuoco, e sopra troviamo la scala della messa a fuoco, come vedete, va da infinito fino a un metro e mezzo, solo che, praticamente, si blocca su tre valori, principalmente, quindi si blocca su un metro e mezzo, con la faccia di una persona, quindi per un ritratto, si blocca a tre metri, quindi per prendere una persona intera, come vedete c'è la figura intera, e si blocca a infinito, quindi gli alberelli, la barca, ecco, per i paesaggi, ovviamente possiamo selezionare tutte le cose intermedie, però se abbiamo l'occhio nel mirino, noi già sentiamo con un click, a che distanza siamo, e io devo dire che è anche piuttosto comodo, ovviamente, man mano che spostiamo la messa a fuoco, vediamo riuscire l'obiettivo, molto bene, poi, cosa altro dire di questa macchina fotografica, non vi ho fatto vedere il sotto, eccolo qua, sotto abbiamo la leva di carica, abbiamo questa ghiera qui, che serve per il riavolgimento della pellicola, girandola dovrebbe anche fuoriuscire, la mia non fuoriesce, però in teoria si abbassa, e poi si riavolge lungo la freccia, vedete, abbiamo il tasto di sgancio della tensione della pellicola, il bollino va bene, per l'Italia della garanzia, e abbiamo anche il contapose, vedete, contapose, che avanza automaticamente, ecco, insomma, devo dire che questo contapose è avanzato per l'epoca, di solito il contapose all'epoca, dovevi azzerarli manualmente, eccetera, questo invece, va avanti da solo, e l'apertura del dorso si azzera, anche da solo, quindi abbiamo un bel contapose, bene, questo era tutto quello che avevo da dire, insomma, per questa macchina fotografica, penso di avervi, insomma, spiegato un po' tutto, è abbastanza semplice, come macchina fotografica, ma se non la si conosce, ovviamente, non si sanno, che funzioni hanno tutti questi pirulini, che troviamo intorno alla macchina, ovviamente, è una macchina che è più da collezione, che è da utilizzare, non tanto perché sia rara, quanto perché di fatto, è veramente difficile da usare, se non inutilizzabile, a causa del selenio, perché è quasi impossibile ormai, trovare cellule al selenio, che siano ancora completamente cariche, che quindi diano, dei tempi precisi, all'otturatore, e niente, questo era tutto, io vi saluto, statemi bene come sempre,